Ma buongiorno a tutti! Prima di cominciare volevo assolutamente dirvi di andare a metà video per sentire lo sponsor su una cosa che mi ha conquistato completamente, cioè CyberGhost VPN. Per saperne di più quindi assolutamentissimamente dovete guardare almeno i primi 5 minuti della classifica. Ehi, ma guarda chi si vede! Sapete, la bellezza nel mondo ha diverse sfaccettature, non siamo brutti, semplicemente ognuno di noi ha un tipo di bellezza in sé. E non è solo una frase fatta. Addirittura oggi andremo a vedere persone che hanno segnato degli standard che sono famose in tutto il mondo per la loro bellezza, davvero unica. Se siete passati dalla pagina Instagram del canale e siete seduti o sdraiati o seduraiati, cominciamo! Aja Ostergren Ostergren è una modella svedese di 35 anni, molto riconosciuto ovunque, ma un tempo non era così. Ha sofferto moltissimo a causa del bullismo. Tutti la prendevano in giro per il suo fisico minuto e le sue gambe. Sono gambe da record, con una lunghezza di 110 centimetri. Nel 2013 però decide di cambiare se stessa e comincia a fare palestra per rafforzarsi. Da lì tutto è cambiato. Ha una forma invidiabile, le agenzie di moda fanno a botte per averla e ha un account Instagram con più di 200.000 follower. Ora, quei bulli che la prendevano in giro la invidiano moltissimo e pensate che riesce a tenere questo peso forma dopo aver avuto ben due bambini. Tsunaina La modella tibetana dal viso shock Lei è una delle poche al mondo che non ha nemmeno bisogno di parlare per farsi riconoscere. Sui social posta poche volte, ma quelle poche volte ha sempre lo stesso viso, la stessa espressione. Eppure, la sua pelle di porcellana e il suo naso sono le cose che più hanno colpito le persone. Specialmente fotografi che, da ogni parte del globo, vogliono assolutamente riprendere i suoi nei in volto e i suoi occhi da gatta. È finita in numerose riviste e ha fatto numerose sfilate di moda. Come detto prima, molta della sua bellezza arriva proprio dallo stranissimo naso. E per questo motivo è il suo volto a fare la maggior parte del lavoro, senza quasi mai mettere il corpo in mostra. Sofia Hagipanteli Non è cara delle vigne ad essere la modella con le sopracciglia più folte del mondo e nemmeno Rock Lee. Ma forse lo è questa donna, Sofia Hagipanteli. È stata nominata la modella con il monociglio e non è un'offesa. Sfila nelle passerelle di tutto il mondo con questa sua diversità e ne va fiera. In più, in un'intervista ha detto che le donne non devono per forza seguire uno stereotipo di bellezza. Devono essere fiere delle loro diversità e sfruttarle per far capire al mondo cosa le rende uniche. Ha 22 anni e attualmente, oltre a fare la modella, studia anche all'Università di Maryland. Ha più di 400.000 follower su Instagram e vi consiglio di andare a darci un'occhiata, rimarrete veramente sorpresi. Melanie Alexia Carina Martinez è la madre di Melanie Alexia, una bambina nata con una sindrome molto ma molto rara. Malattia che le fa avere dei grossi e bellissimi occhi marroni. Non come tutti gli altri, come potete vedere. Aksenfeld-Rieger è il nome di questa sindrome e già da piccola, a soli 4 mesi, si è dovuta sottoporre a un'operazione per impedire che diventasse completamente cieca. Ad oggi quelli che vedono questa sua caratteristica si complimentano sempre con la madre, ma lei fa molta fatica a sorridere perché se si esponesse per sbaglio al sole la bambina diventerebbe completamente cieca. Deve sempre indossare gli occhiali da sole quando esce. Molti giornalisti di moda le avevano chiesto di poterla mettere nelle prime pagine delle loro riviste, ma Carina ha dovuto sempre rifiutare. Molly Bayer È nata nel 1997 ed è una giovane modella diventata famosa specialmente per una sfilata nel 2015, dove ha mostrato a tutti che la bellezza può esserci in qualunque corpo. Lei non è la tipica modella simmetrica con il volto perfetto. Alcuni l'hanno definita un goblin quando era piccola per via dell'altezza, delle gambe e il fisico con un collo molto robusto e lungo anch'esso. E ovviamente alcuni tratti del suo viso. Ma ad oggi ha già sfilato per nomi importantissimi, come per esempio Chanel. Sì, una bazzecola proprio. Ora tutti quelli che la bullizzavano dovranno ricredersi su tutto. È una ragazza distaccata ma gentile, non essendo abituata all'affetto degli altri. Lei è proprio il contrario di una modella, ma allo stesso tempo è una bravissima modella. Avete mai pensato a cosa potrebbe esserci nel Netflix del Giappone o in quello degli Stati Uniti? Beh, io a volte sì e in effetti ho scoperto che negli Stati Uniti hanno molte, ma molte più cose di noi. Circa il 40% in più. Film o telefilm unici che non vedremo mai. A meno che non usiamo un VPN, proprio come CyberGhost. Però questa è differente dalle altre. Ho deciso di accettare la loro proposta di sponsor perché a mio parere è la più completa. Siete completamente protetti quando navigate in internet. Potete guardare ogni genere di film o telefilm in ogni genere di lingua. Di ogni genere di paese. Utilizzando magari i sottotitoli su moltissime piattaforme diverse, quindi non solo Netflix. Ed eccone alcune. L'applicazione di CyberGhost è disponibile per Windows, Mac, iOS, Android, Amazon 5Stick, Linux e altri ancora. E con un solo account potrete proteggere 7 dispositivi diversi. Se volete provare almeno una volta l'ebbrezza di essere i primi a vedere un film che in Italia magari uscirà l'anno prossimo, iscrivetevi utilizzando il codice che vi lascio in descrizione. Così da pagare solo 2 euro al mese. Il miglior prezzo finora sul mercato. E nel caso non siate contenti entro 45 giorni potrete chiedere la restituzione del vostro denaro. E ovviamente l'assistenza clienti è disponibile per ogni problema di configurazione. 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in 4 lingue diverse. Nastia Zidkova Se non avete mai sentito parlare di lei, beh, ora è il momento giusto e sicuramente vi rimarrà in testa per molto tempo. È alta 1,52 m ed è nata a Mosca. Come potete vedere la sua bellezza è una cosa quasi unica. Perché non si vedono spesso ragazze con l'albinismo avere ogni centimetro dei loro peli completamente bianchi. Esatto, anche le ciglia e le sopracciglia e sicuramente pure sotto le shell. Molti dicono che sia quasi uscita da un anime e non credono alle sue foto online che si possono trovare su Instagram. Perché sembra quasi photoshopata. Eppure è una modella russa famosissima con richieste ogni giorno. E ha pure recitato in alcuni film. Melvnin Se c'è una ragazza che può conquistare facilmente l'industria della moda, quella è sicuramente la modella venuta dal Gambia, di nome Melvnin. Alcuni dicono sia quasi uscita da un fumetto. I suoi occhi quasi bianchi e la sua pelle scura creano un contrasto bellissimo per chi la guarda. Il problema è che è veramente un grande mistero questa ragazza. Non si sa quasi niente di lei e molti si chiedono se davvero faccia la modella o meno. La sua pagina Instagram con più di 400.000 follower riporta anche esso pochissime informazioni. C'è scritto che è vegana e le piacciono gli anime. Sarà quindi uscita davvero da un cartone giapponese. Chi lo sa? Muffy Hardy La modella inglese Muffy non è soltanto una persona simpatica e incredibilmente socievole, ma è anche una di quelle che per entrare nell'industria della moda ha dovuto combattere ogni genere di battaglia. Anche contro gli stereotopi per via di una particolarità che però alla fine è diventata la sua parte più forte e bella. È strabica e grazie a lei l'industria ha subito un grosso cambiamento, dando possibilità ad altre persone con questo problema di potersi affermare. È stata ingaggiata dalla Storm Model, l'agenzia che ha lanciato top model del calibro di Cindy Crawford, Kate Moss o Cara delle Vigne. I fotografi che lavorano con lei rimangono sorpresi dalle sue forme e dagli occhi che non si allineano, quindi li permettono di sbizzarrirsi sulle pose da farle prendere. Katyn Stickles Questa modella di Seattle è nata con la sindrome degli occhi di gatto. Per dirla in parole povere, sin dalla tenera età ha avuto un volto deformato simile a quello di un gatto. Esatto, come potete vedere la vita non deve essere stata facilissima per lei. Gli standard di bellezza non esistono più e ha sfidato ogni persona nel mondo, diventando alla fine come aveva sempre sognato una vera modella professionista. Il primo fotografo ad averla notata è stato Nick Knight per Vogue, che ha dato un'occhiata approfondita al suo profilo Instagram capendo che c'era della potenzialità nella ragazza. Daphne Self Come dicevamo prima, la bellezza può essere in chiunque, qualunque tipo di persona con qualunque tipo di età. Anche in Daphne Self, di origine inglese, ha 91 anni e ancora oggi non sembra volersi fermare dal fare la modella professionista. Ha lavorato nell'industria per ben 70 anni. Ed è quindi conosciuta come la più anziana del mondo a sfilare sulle passerelle, ed è anche un'eroina per quelle della sua età. Più di una volta è finita in riviste importanti, come per esempio Vogue, dove ha anche un intero articolo dedicato intitolato Come ci si sente ad essere anziani. Tutti i fotografi che lavorano con lei rimangono sorpresi dall'energia che possiede. Pari a quella di una trentenne, è la voglia che riesce a mettere nonostante gli anni ormai passati a fare più o meno la stessa cosa. Le hanno chiesto anche più di una volta perché non vuole fermarsi. Ha risposto semplicemente, finché la vita è così interessante e non mi cedono le gambe, per quale motivo dovrei mollare? E io ho solo una cosa da dire, concordo con te sorella. Con questo concludiamo. Davvero pazzesche alcune delle donne che abbiamo appena visto, o no? Sicuramente sanno il fatto loro, e noi ci sentiamo alla prossima gente. Stesso posto, stessa voce e orario diversissimo, ma comunque il pomeriggio penso. Ciao! 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 Ciao!